ciao a tutti finalmente oggi torno con una ricetta di cucina finalmente dopo tantissimo 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 tempo che non vi facevo un video con una ricetta appunto ma questa era assolutamente d'obbligo adesso siamo in autunno sta arrivando il freddo qui da me ancora non fa freddo però ci sono alcune mattine che si sente un po di fresco e quindi c'è la voglia di bersi qualcosa di caldo io sono golosissima di cioccolata ovviamente e la cioccolata calda è una delle cose che amo di più soprattutto con la panna e oggi vi mostro appunto la ricetta della cioccolata calda ho provato davvero tantissime ricette le ho modificate ma nessuna mi piaceva finché sono arrivata alla ricetta che appunto vi presento oggi vi mostrerò prima gli ingredienti e come realizzare appunto il preparato per questa cioccolata e poi alla fine invece vi mostro come utilizzare appunto questo preparato qui ma andiamo subito a vedere cosa ci serve e come si prepara dunque per questa ricetta abbiamo bisogno di cioccolato fondente dal 60 per cento in su cacao amaro in polvere zucchero di canna zucchero bianco fecola di patate dunque come primissima cosa vado a spezzettare la cioccolata 100 grammi di cioccolato fondente cerco di rendere fare dei pezzetti piccolini perché poi nel frullatore devo riuscire a frullarlo in poco tempo quindi vado a versare tutta la cioccolata sul mio frullatore e vado a tritare finemente il cioccolato andando ad accendere e spegnere il frullatore alternativamente in modo da non scaldare la cioccolata e fare in modo insomma che non si sciolga quindi vado ad accendere a spegnere finché insomma la cioccolata si è polverizzata a questo punto vado ad inserire tutti gli ingredienti che rimangono e sono 75 grammi di cacao amaro 100 grammi di zucchero bianco 40 grammi di zucchero di canna e 125 grammi di fecola di patate e poi di nuovo chiudo il mio frullatore e vado a frullare tutto quanto insieme fino a formare una polvere omogenea il risultato finale poi sarà questo e a questo punto il nostro la nostra miscela è pronta vado semplicemente a travasarlo su un barattolino con chiusura ermetica questo preparato per cioccolata va utilizzato nella stessa identica maniera in cui andrebbe utilizzato un altro preparato le dosi sono circa due cucchiai di polvere per tazza che sono diciamo 40 grammi per 40 grammi di polvere per 200 ml di latte io vado prima a versare un po di latte e mescolo bene in modo da evitare i grumi che potrebbero formarsi e poi una volta che ho mescolato molto bene vado a riempire la tazza insomma con il latte con il latte rimanente mescolo ancora un po e poi lo vado a scaldare nel microonde lo scaldo nel microonde perché è più veloce semplicemente lo metto nel microonde e lo faccio partire per un minuto e mezzo la potenza del mio microonde è di 850 watt quindi sappiatevi regolare con il vostro potrebbe risultare che si fermi sul fondo tutta la parte più densa della cioccolata e nel superficie invece rimanga liquida per evitare questo potete ogni 15 20 secondi stoppare il forno microonde mescolare la cioccolata e poi rifarlo ripartire insomma finché la cioccolata è pronta io come vi dicevo utilizzo il forno microonde ma poi voi potete anche benissimo cuocere la cioccolata nel modo classico cioè nel pentolino e continuando a mescolare il risultato finale sarà questo vedete che davvero molto molto densa e anche molto buona perché si sente il gusto della cioccolata con questo è tutto io spero che il video vi sia piaciuto lasciatemi scritto nei commenti se vi piace la cioccolata calda se volete qualche altra ricetta se vi è piaciuto questo video e con questo è tutto lasciate un mi piace al video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e io vi aspetto al prossimo video ciao 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 ciao